La situazione meteorologica sulla regione per questo fine settimana è dominata dall'alta pressione robusta che interessa gran parte dell'Europa centrale e mediterranea, quindi anche la nostra regione, con tempo stabile ma il ristagno di umidità nei bassi strati. Come curiosità tra domenica e lunedì l'uragano Ophelia attraverserà l'Atlantico da sud ovest verso nord est dirigendo verso l'Irlanda, mantenendosi quindi lontano dalle nostre zone ma determinando per quelle zone venti decisamente intensi. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, sabato avremo cielo in prevalenza sereno in montagna con atmosfera secca e piuttosto mite in quota con zero termico verso i 3.800-4.000 metri. Sul pianura e costa di notte, primo mattino, foschie, nebbie e nubi basse, poi in giornata prevarrà il sereno quasi ovunque con temperature piuttosto elevate, massime che raggiungeranno anche i 24 gradi in pianura, fermandosi intorno ai 21-22 lungo la costa dove la brezza debole dal mare tende a mitigare un po' le temperature. Domenico è una giornata simile, a sabato ancora preferenza di sereno in quota secco e caldo con zero termico a 4.500 metri, ancora foschie, nebbie e nubi basse di notte e primo mattino su pianura e parte della costa che poi in giornata tendono a dissiparsi lasciando il posto a cielo preferentemente sereno e temperature decisamente miti, anche 25-26 gradi in pianura, qualcosa meno sulla costa sempre per via della brezza del mare. Tempo simile anche ai primi giorni della prossima settimana, non cambia, l'istagna si accumula ancora, umidità nei bassi strati. E dell'osservatorio Meteor dell'Arpa, Arturo Pucillo, vi saluta.